Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday, questo oggi su Coin360.com troviamo una schermata prevalentemente in rosso cosa che potevamo anche aspettarci visto che come anticipavo lunedì scorso c'è stato praticamente un buy the rumors and sell the news ossia abbiamo atteso quello che era un'approvazione abbastanza scontata sui future ETF per quanto riguarda ETH e poi questo è arrivato proprio lunedì scorso e adesso un riscontro negativo con un'aspettativa che andava in controtendenza con quello che è lo stato reale e attuale del mercato e infatti la moneta che ne sta risentendo di più sul settimanale è appunto ETH con un meno 6.4% che cosa voglio dire con questo è che praticamente sì c'è stato un'iniezione di entusiasmo, di positività nell'anticipare questa notizia poi un classico sell the news e il tutto si è andato a ripercuotere sul mercato comunque vediamone meglio i dettagli con BTC che rimane più o meno sullo stesso livello lo vediamo meglio nelle diverse finestre temporali e nell'analisi tecnica che andremo a fare oggi soprattutto analisi fondamentale non ci sono moltissime notizie ma qualche approfondimento di natura soprattutto geopolitica mi scuso con l'audio non ottimale sono in trasferta anche per questo sarà un'edizione del Crypto Monday un pochino più contenuta comunque su CoinMarketCap vediamo che la dominance si mantiene al 50% per quanto riguarda Bitcoin e un 18% su ETH quindi la metà del mercato spaccato in questo momento è soppesata tutto su BTC e parliamo di una market cap totale di 1.09 trillion quindi sempre superiore ai 1000 miliardi di dollari di cui circa 500 lo vediamo qui una market cap di 544 miliardi è appunto la capitalizzazione di Bitcoin con un fear and greed index che pesa al 45% quindi 45 su 100 in uno stato neutrale dove ancora in molti non sanno dove sbilanciarsi se sperare in una ripresa oppure demordere definitivamente queste sono le fasi che solidamente caratterizzano la fine di un ciclo ribassista comunque sia dovremo vedere per quanto ancora questo potrà continuare andiamo a fare un'analisi sul settimanale qui vediamo che una settimana fa appunto il prezzo era 28.394 dollari per quanto riguarda Bitcoin e in questo momento è a 27.800 quindi un meno 1.9% più o meno sullo stesso livello sul mensile invece un importante rialzo infatti leggiamo un più 7.6% rispetto a un mese fa in cui il prezzo era 25.800 dollari un anno fa era notevolmente più in basso infatti era un periodo abbastanza negativo quello dello scorso anno tante delle notizie che stiamo analizzando oggi sono proprio figlie di quel periodo soprattutto quelle legate ad FTX con un prezzo della singola moneta a 19.139 dollari passando velocemente all'analisi tecnica coppia BTC-USD su Coinbase ogni candela qui rappresenta un giorno e come ormai da diverso tempo rappresento anche quelle che sono le medie mobili semplici del prezzo quindi in arancione la media degli ultimi 50 giorni del prezzo e in verde la media degli ultimi 200 giorni queste ci vanno praticamente a caratterizzare gli spostamenti e i cambiamenti più rilevanti del prezzo e lo possiamo vedere facilmente anche in modo visivo perché qui adesso che il prezzo ha avuto questa ripresa soprattutto guidato da notizie legate appunto ad aspetti finanziari come l'approvazione di un ETF per i futures su Ethereum che comunque caratterizzano un nuovo afflusso di liquidità nel settore abbiamo visto appunto una candela nella settimana scorsa soprattutto domenica 1 ottobre con l'inizio del mese di ottobre che ha portato il prezzo al ridosso di questa che è effettivamente una resistenza la media mobile a 200 e qui per diversi giorni le candele sono andate a chiudere proprio su questo livello in questo momento anche oggi questo rappresenta la resistenza più importante verso l'alto con un prezzo ai 28 mila dollari quindi che coincide anche con una cifra tonda e quindi psicologica dove in molti hanno probabilmente posizionato i propri ordini e qui troviamo invece più in basso quella arancione che ha preso dopo questo rialzo un trend che sembrerebbe essere tendente al positivo con un livello in questo momento a 26.570 dollari che rappresenta un supporto al prezzo più in basso quindi da osservare questa fascia quella che va appunto dai 26.500 ai 28.000 dollari con i 28.000 che rappresentano in questo momento un livello importante visto che sarebbe appunto un segnale importante andare al di sopra di questo livello per segnalare un cambiamento di trend come però ho detto anche lunedì scorso a mio modo di vedere questa fascia qui più allargata che possiamo considerare fino ai 29.000 dollari o addirittura fino ai 30 sarà un livello che bitcoin probabilmente vedrà a lungo tempo e un livello ancora più basso rimane comunque quello dei 25.000 quindi questi 5.000 dollari dai 25.000 ai 30.000 saranno una fascia di prezzo che se vogliamo astrarre un po' il discorso caratterizzeranno probabilmente questo periodo prolungato finché non ci sarà il vero cambiamento di trend quello che porterà verso un eventuale bull market magari guidato da altre cose come un'approvazione spot per un etf negli Stati Uniti e comunque con l'arrivo dell'Alvin che arriverà nel 2024 qui ci sono diverse cose che stanno andando a congiungersi e poi voglio fare anche dei richiami abbastanza interessanti a quella che è la storicità di questo settore e delle situazioni geopolitiche che stiamo vivendo prima ancora voglio comunque fare un'analisi on-chain quindi vedere quelle che sono le monete circolanti a livello di percentuale e abbiamo una dato legato ai depositi su exchange centralizzati che scende 11.75% è il quantitativo delle monete depositate su checks livello molto molto basso con un trend che si è portato da giugno di quest'anno in poi dal 12.4% all'11.7% attuale che fa presagire un ottimo fondamentale in attesa di un'eventuale domanda andando verso aspetti di natura più fondamentale penso che un po' tutti abbiamo pensato a questa pagina del 3 gennaio 2009 magari tutti coloro che sanno che questa pagina è stata inserita è stata richiamata nel primo blocco quello di Genesi della blockchain di Bitcoin perché questo richiamo anche ideologico? beh basterebbe leggere quelli che sono i titoli su questa pagina e qui c'è un richiamo e un ricorso storico abbastanza importante con soprattutto questo sottotitolo con Israele che si prepara a mandare carri armati e truppe a Gaza in questo 2023 è il secondo richiamo importante anche perché qui il titolo principale quello del Cancelor sull'orlo del secondo bailout per le banche potrebbe essere anche questo un titolo molto attuale visto soprattutto a inizio nella prima fase di quest'anno con diverse situazioni bancarie in difficoltà la situazione della politica monetaria di questo momento è molto diversa da quella di quel periodo ma paradossale come alcuni richiami come alcuni messaggi scritti per sempre nel primo blocco della blockchain di Bitcoin ci facciano ricordare il motivo base per cui questa tecnologia è nata vista anche l'attualità e tornando all'attualità stretta vi ho appena appunto ricordato del perché c'è stato comunque un rialzo in questo inizio ottobre con l'arrivo appunto di questi futures per quanto riguarda Ethereum vi avevo anche avvisato di fare attenzione sul fatto che quei rialzi potevano essere stati guidati da un'euforia magari un po' troppo facile e effettivamente è stato così dopo l'approvazione comunque per ProShares, Vanek, Bitwise, Valcair, Kelly e VolShares questi sono stati gli ETF che hanno visto il loro debutto settimana scorsa sul CBOE non c'è stato un grande riscontro di volumi infatti non è che si scambino poi tantissimo questi strumenti d'altronde stiamo parlando sempre di ETF futures senza un reale legame con il sottostante spot e che comunque arrivano in un periodo in cui non c'è grandissimo interesse verso questi asset finanziari però c'è da dire che arrivano continuamente nuove richieste per quanto riguarda lo spot e secondo molti analisti l'arrivo dell'ETF spot soprattutto su Bitcoin sarà veramente un game changer a livello di liquidità che potrebbe entrare in questo settore si parla addirittura di trillions quindi di migliaia di miliardi di dollari considerando che in questo momento l'intero settore capitalizza e non vale ma capitalizza un trillion dollar quindi è banalmente la moltiplicazione del numero delle monete in circolazione per il loro prezzo attuale non un reale TVL un total value locked che in realtà potrebbe poi affluire per un certo senso in questo settore se dovessero veramente dovesse arrivare questo strumento che permetterebbe di avere una sorta di gateway per il mondo della finanza tradizionale verso questo settore prima ancora però c'è tutta una fase di preparazione e diverse richieste voglio menzionare anche il fatto che oltre aver fatto una richiesta simile per quanto riguarda Bitcoin Grayscale sta lavorando alla trasformazione del proprio trust per Ether in uno strumento ETF spot quindi c'è anche questa aggiunta visto che la settimana ha caratterizzato quello strumento e quell'asset il sottostante Ethereum importante è anche questo aggiornamento e in più volevo fare un focus questa settimana proprio sulla situazione del Middle East e Nord Africa perché tramite dati che arrivano su Chain Analysis oltre che le notizie che arrivano purtroppo da quell'area geografica del mondo c'è un trend molto importante che attira l'attenzione di chi sa leggere dei dati un pochino più ad alto livello rispetto alla finestra ristretta e temporale legata al movimento di prezzo momentaneo l'articolo di Chain Analysis va a chiamare appunto Middle East e Nord Africa MENA quindi quando leggiamo MENA stiamo parlando di quell'area geografica e ci fa un'analisi su come ci sia un trend molto importante in crescita su quell'area infatti qui in arancione vediamo quanto pesa in questo momento l'affluenza di liquidità rispetto a tutto il resto del mondo 7.2% 92.8% è tutto la restante parte del mondo quindi un peso molto molto importante ma soprattutto un trend molto importante posso dividere senza fare un approfondimento troppo lungo in due grandi filoni i paesi con un'economia più consolidata stanno vedendo un interesse su strumenti finanziari che aumentano o potrebbero aumentare l'efficienza di mercati in crescita notevole crescita economica qui parlo ad esempio di Emirati Arabi Uniti che hanno visto l'affluenza di denaro da imprenditori e imprese molto importanti qui c'è un'attrattiva verso appunto strumenti come la DeFi o strumenti finanziari evoluti di quel tipo mentre invece c'è il filone che poi riguarda quei paesi che stanno vivendo una difficoltà sulla loro politica monetaria standard e sulla loro moneta e qui principalmente c'è la Turchia con la svalutazione della lira turca e vediamo come questo paese sia tra i più interessanti verso l'adozione di sistemi cripto e che pesano in questo modo se dovessimo guardare questa fascia abbiamo un utilizzo che principalmente in paesi come la Turchia passa per exchange centralizzati che ancora guidano molto dei volumi ma anche una bella fetta legata alla DeFi che vediamo in blu come avviene in ogni altro paese il peso retail è molto piccolo il grosso dei volumi lo fanno professionisti o comunque istituzionali c'è da sottolineare di come una struttura che è andata a migliorare l'aspetto di regolamentazione soprattutto nell'area UAE Emirati Arabi Uniti sia andata a far crescere notevolmente anche l'accessibilità verso strumenti legati al mondo della finanza decentralizzata e questo è stato un aspetto fondamentale mentre invece in paesi come la Turchia l'attività si è mossa principalmente sul cambio lira btc o lira usdt per dire il vero la maggior parte è sulla stable coin ancorata al dollaro tramite exchange centralizzati proprio perché comunque la grande svalutazione portata anche dal abbassamento velocissimo sul tasso di interessi della banca centrale questo ancora prima di questa fase ha portato un'inflazione davvero importante sulla moneta locale e l'interesse proprio per mantenere una riserva di valore quindi una conservazione del potere d'acquisto da parte dei milioni di persone che ne hanno scoperto l'utilità qui c'è uno schema sui top countries by cryptocurrency value received questo che va dal luglio 2022 a giugno 2023 vediamo come la Turchia sia quarta solamente dopo i Stati Uniti l'India e il Regno Unito la lira turca nel 2021 ha visto un vero e proprio crash dopo che la banca centrale ha tagliato i tassi di interesse di 100 punti base quindi è abbastanza evidente di come la svalutazione della moneta turca abbia poi guidato l'interesse verso il mondo cripto con un caso d'uso reale c'è poi l'analisi sull'interesse che è arrivato con un trend abbastanza modaiolo tra virgolette su quelle che sono gli NFT con uno spike al primo quarter del 2022 poi un calo notevole è rimasto diciamo meno in declino su paesi con un'economia più avanzata come ad esempio gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita guida il mondo come rate di crescita nella transazione cripto con il 12% di crescita annuale vista appunto su diversi anni dal 2021 in poi secondo c'è il Vietnam poi Nigeria Spagna Taiwan ed Indonesia in generale il rassunto che ci fa questo articolo e questo approfondimento è che in paesi con currency poco stabili o in inflazione le cripto sono utili per salvaguardare il patrimonio e la ricchezza e qui in questo caso la parola cripto è utilizzata secondo me in modo giusto perché non parliamo solamente di bitcoin in questo caso visto che gran parte di questi paesi stanno utilizzando stable coin ancorate al dollaro come USDT che spese volentieri comunque sono appunto scambiate su reti che ne consentono l'utilizzo magari anche di contratti in DeFi come ad esempio Ethereum o in gran parte anche su reti EVM compatibili come ad esempio Tron basta vedere dai volumi mentre in paesi dove l'economia è più stabile o comunque un'economia dove si tende alla crescita come ad esempio i paesi degli Emirati Arabi Uniti c'è un'inclinazione più ad esplorare nuove forme di investimento focalizzate anche alla crescita tecnologica con nuovi casi d'uso e nuovi strumenti per rendere questi nuovi mercati più efficienti come ad esempio tutto il mondo DeFi è interessante poi vedere come un nuovo sistema di regolamentazione e chiarezza da questo punto di vista sulle regole e sul design di queste abbia portato poi la possibilità a queste innovazioni di avvicinare le persone far diventare questi paesi dei crypto hub e attirare anche dei capitali facendo crescere l'economia locale questa analisi è interessante soprattutto si rega a quello che sta succedendo in questo momento a livello geopolitico e un reale utilizzo di queste tecnologie vi lascio comunque i riferimenti in descrizione per leggerne da voi i dettagli parlando di exchange centralizzati mi leggo a questo aspetto che ha visto appunto regolamentazioni andare ad abbassare quello che è il peso dei grandi monopolisti del settore ha eliminato dallo scenario quello che era uno degli exchange più importanti a livello di derivati ossia FTX nel 2022 nel 2023 sta vedendo abbassare le quote di dominio di Binance sul mercato infatti il market share scende per la settima volta per il settimo mese consecutivo per quanto riguarda Binance e questo soprattutto ha vantaggio di competitor come HTX prima chiamato Wobby Bybit e DigiFinex questi stanno prendendo share di mercato e ne stanno guadagnando da quelle che sono le enforcement e le azioni su Binance ovviamente avere una diversificazione di mercato e questa distribuzione di fetta di mercato è a mio modo di vedere sempre un bene rispetto ad avere un unico monopolio fermo restando che a mio modo di vedere questo è solamente un passaggio e probabilmente una fase che ci porterà ancora di più verso l'utilizzo di strumenti in finanza decentralizzata che per tanti versi ancora non sono convenienti soprattutto a livello economico non sono facili quanto le strutture centralizzate ma più passa il tempo e più queste si avvicinano e più diventano competitive rispetto agli strumenti centralizzati devo menzionare anche l'attacco fatto verso Galzi che è un sito che consente di fare campagne legate a testing di nuovi protocolli alla scoperta di nuovi progetti applicazioni o reti tra i più famosi probabilmente è Galzi ha visto un DNS attack c'è un report questo arriva direttamente il 6 lo sto menzionando perché vi consiglio di non andare a utilizzare Galzi.com in questo periodo fate passare un pochino di tempo magari fate passare anche qualche giorno in più visto che il problema è stato legato prevalentemente al DNS ossia al dominio è come se ci fosse stata una deviazione verso un sito copia malevolo in molti hanno parlato appunto di hackeraggio in modo molto vago leggiamo il report e cerchiamo di capire cosa è successo dati conteggiati al 7 ottobre fanno leggere che ci sono stati circa 1120 utenti affetti da questo problema con circa 270 mila dollari rubati perché perché il sito Galzi.com come dominio è stato attaccato il 6 ottobre c'è stato un rerouting verso un altro sito un sito di phishing quindi quando andavamo a digitare Galzi.com in questi ultimi giorni venivamo deviati in automatico tramite appunto un hackeraggio sul DNS verso un altro sito copia ma malevolo e siccome Galzi richiede un collegamento spesso e volentieri con un address quindi con un wallet come ad esempio Metamask approvando determinati contratti si andava ad acconsentire al sito stesso e ai contratti dietro quel sito di accedere ai nostri fondi quindi quello che ci va a suggerire in questo momento Galzi stesso delle misure di sicurezza che si possono prendere hanno fatto una security guide che si trova direttamente qui sull'help center ve lo lascio comunque in descrizione mi raccomando seguite sempre i link che lascio in descrizione per essere più sicuri e per evitare anche appunto siti di phishing questo è il recovery plan poi ci sono le misure di sicurezza che riguardano principalmente l'utilizzo di revoke.cash sito che ci permette di fare un revoke dal nostro address verso eventuali contratti malevoli soprattutto stando attenti andiamo sul sito e vediamo se il nostro indirizzo è legato a in particolare questi due indirizzi qui se li vediamo facciamo un revoke basta cliccare un pulsante verso questi contratti e dovremmo essere ok comunque questo vale principalmente per tutti coloro che hanno acceduto al sito dal 6 ottobre in poi perché prima il sito comunque non presentava questi problemi e di base i contratti o il sito Galze non ha problemi è una copia che ovviamente ha creato dei ponti verso i nostri address che possono essere bruciati tramite revoke quindi basta guardare questa cosa se non siete entrati invece su Galze dal 6 in poi non c'è problema vi consiglio di aspettare ancora un po' magari controllare gli aggiornamenti su Twitter e vedere se la cosa ha ripreso in modo normale in realtà il sito è già tornato operativo è già tornato ad essere utilizzabile bisogna stare attenti a quello che si approva soprattutto perché quello che succedeva appunto era una transazione quando si andava a fare l'approval sugli asset sul sito di phishing insomma aggiorniamoci sulle varie community online perché quando la situazione tornerà tranquilla ci sarà modo comunque di capirlo visto che ci sarà un via libera generale e ripeto il sito ufficiale o comunque gli account ufficiali sono la cosa da seguire in questi momenti qui ci stiamo avvicinando al Plan B di Lugano la seconda edizione e ci tenevo a ricordarlo a tutti arriverà dal 20 al 21 ottobre 2023 quest'anno per chi fosse interessato per chi volesse partecipare trovate tutte le informazioni su planb.lugano.ch aggiornamento importantissimo anche lato Metaswap infatti dopo la proposal fatta onchain e passata c'è stata appunto l'approvazione al rilascio delle votazioni anche su Snapshot Snapshot è in fase di approvazione ossia sono state fatte le richieste per attivare la lettura di tutti i vari XMT che si detengono non solo negli address su Rete Ethereum ma anche in staking sulle staking pool e adesso una volta attivo sarà possibile fare le prime proposal senza pagare transaction fee e poter votare allo stesso modo quindi un passaggio molto molto importante che va a unire appunto Metaswap alle tante DAO già presenti su una delle piattaforme se non la piattaforma più importante per avere delle votazioni off-chain che però vanno a leggere il voting power on-chain quindi per tutte quelle tipologie di votazione più leggere a modi sondaggio si ha finalmente un posto dove post discussione sul forum si può andare poi a proporre dei cambiamenti senza costi transazionali sempre rispettando le stesse regole che ci sono sulla DAO principale quindi lo stesso livello di token per poter fare una proposal stessi livelli di votazione per avere un quorum e un'accettazione chiunque ha degli XMT su mainnet e ethereum può partecipare adesso a snapshot trovate tutti i dettagli comunque su blog ufficiale metaswap ovviamente passaggio importante che poi è propedeutico ai prossimi passaggi che saranno quelli di andare in direzione sviluppo e rilascio e ci sono grandi novità in arrivo soprattutto per i due anni dalla nascita del progetto non mancherò di aggiornarvi da questo punto di vista intanto per quest'oggi è tutto noi ci ritroviamo mercoledì alle 18.30 per la consuleta live su youtube coinsquare questa settimana sarà un'ama se vi siete persi la scorsa puntata vi consiglio di recuperarla perché avevamo con noi Roberto Mazzoni e Francesco Simoncelli e abbiamo trattato argomenti legati a geopolitica e macroeconomia quindi argomenti molto molto interessanti tanti spunti che possiamo riprendere proprio questa settimana tramite l'ama saremo lì a disposizione per rispondere ad ogni vostra domanda grazie a tutti per l'attenzione ci troviamo lunedì prossimo buona settimana